La città di Teramo, soprattutto quella sportiva, non ha avuto un dolce risveglio questa mattina. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto la richiesta della Teramo Calcio guidata dai fratelli Ciaccia. Ora il percorso si fa complicato e l'unica strada rimane quella del bando pubblicato dall'amministrazione comunale a guida d'Alberto, con la SSD città di Teramo, unica a presentare il nuovo progetto sportivo, pronta ad entrare in corsa per salvare il salvabile. Ma ora da dove si riparte? Da dove si ricomincia? Sì, diciamo che è una conferma delle pronunce dei precedenti organi giurisdizionali, sia sportivi che amministrativi. Quindi, insomma, non stupisce. È stata scelta questa strada di portare avanti i ricorsi fino alla fine. Come sapete bene, noi abbiamo anticipato i tempi e abbiamo creato i presupposti per dare continuità al calcio Teramano, con la commissione di valutazione che ho nominato, con l'interlocuzione che abbiamo avuto con gli organi federali, che avevano congelato e hanno congelato in attesa della sentenza del Consiglio di Stato l'iter. Siamo pronti con una società che ha dimostrato alla commissione di poter svolgere sia l'attività nella categoria di serie D che di eccellenza. Noi i presupposti per la continuità del calcio Teramano, voltando pagina, in modo molto chiaro, molto determinato, abbiamo fatto una risposta di oltre 40 imprenditori intorno a questa nuova società. Li abbiamo costruiti. Ora, spetta alla federazione, alla lega nazionale di dettanti, al comitato regionale, quindi a tutta la filiera delle istituzioni sportive nei cui confronti abbiamo avuto e abbiamo grande rispetto, abbiamo una città che ha dimostrato di poter voltare pagina rispetto al recente passato e veramente di poter partire, di dare continuità al calcio Teramano nel modo dignitoso, rispettoso, così come altre città hanno fatto negli anni precedenti. Noi ci siamo mossi in questa direzione e adesso non resta intanto che attendere intanto le motivazioni dell'ordinanza, che non sono secondari, e poi l'interlocuzione con la federazione. Noi abbiamo anticipato i tempi, più di questo non potevamo fare, anzi, mi ha fatto più di quello che era dovuto, ma per rispetto della città e del calcio Teramano. Sicuramente è una giornata triste perché il Teramo perde ancora una volta il calcio, che è l'unico punto adesso di riferimento per tutti gli sportivi, ma soprattutto anche per la città, perché abbiamo perso tante cose. Oggi perdiamo ancora una categoria importante, dove avevamo fatto anche molto bene nel 2015, incontravamo squadre di un certo livello, come Reggiane, come Pado, Triestino. Purtroppo questo sogno è finito, oggi siamo tutti delusi e speriamo che si possa ripartire con più tranquillità nel prossimo futuro. Io dico che Teramo senza calcio non può starci, perché ci sono tanti appassionati, tanti tifosi che meritano e abbiamo visto quando abbiamo riempito il Bonholz con 10.000 persone, quando il Teramo è salito di categoria, purtroppo per poco tempo. Allora, signore chiedo scusa, buongiorno. Allora, ogni male ha la sua radice. Questa storia che non veniva bene, si sapeva da quanti ciaccia sono arrivati in città. Allora, questi signori prima hanno fatto fallire la Cisco Roma, hanno avuto anche dei problemi con la Lodigiani, è un'altra squadra di Roma, ma è adesso il Teramo. Quindi si sapeva, signore mio, come torno a ripetere, ogni male ha la sua radice. La città addirittura li ha applauditi pure, ci sono dei precedenti, nel precedentemente fallimento oppure con i paoloni. Questa città applaude, applaude sempre. Queste sono le conclusioni. Le soluzioni ad oggi quali potrebbero essere? La soluzione non c'è, perché è molto difficile. Servirebbe un imprenditore forte economicamente con passione. E a Teramo non c'è. Lei pensi che Livorni, in eccellenza, non ha trovato un presidente della sua città. E lo stesso Alessandri, che è stato in vendita, e poi di Masi, l'ex proprietario, è tornato a riprendersi. Perché è difficile trovare gente, signore, disposta a fare calci, perché ci vogliono i soldi. Anche danno. Buongiorno. Grazie.